Una domanda semplice, semplice Vincenzo, col Crotone per il riscatto. Sì, col Crotone sicuramente vogliamo fare meglio di quello che abbiamo fatto, ma conosciamo quelle che sono le difficoltà di questo campionato e credo che perdere a Cittadella, non dico che ci può stare, però non ci dimentichiamo che siamo andati in casa di una squadra che ha fatto la finale per la Serie A, quindi bisogna essere un po' più lucidi nei giudizi perché si sentono sempre tantissime critiche nei confronti di questa squadra, a volte infondate perché a volte sembra che non si veda l'ora che il Pescara perda per criticare l'allenatore, il Presidente al primo momento. Io credo che quelli che facciano così non sono veri tifosi del Pescara. I veri tifosi del Pescara erano a Cittadella, ci hanno applaudito. Veniamo da una semifinale di play-off e si respira sempre un clima negativo qui, nei confronti del Presidente, nei confronti di un allenatore, uno staff nuovo che sono bravi, sono per la maggior parte abruzzesi e invece non si vede l'ora di criticare qualsiasi tipo di scelta. Io credo tanto nella mia squadra, credo che ci sono squadre più forti di noi, ma se lavoriamo in una certa maniera con il supporto di tutti si può fare magari qualcosa di bello, se no ogni domenica siamo a fare il processo dei giudizi per vedere di chi è la colpa. Così si cresce molto più lentamente. L'equilibrio in primis, però tu ormai conosci benissimo questa piazza, è un morale per antonomasia. O tutto o niente non ci sono mezze misure? Questo è vero, però l'anno scorso magari giocavamo male e vincevamo e tutti erano contenti. Quest'anno se vinciamo e giochiamo male non siamo contenti lo stesso e questo non capisco il motivo perché allora lì si va a criticare magari a prescindere le persone. Io da capitano questa cosa non lo ammetto perché so che ci sono tanti ragazzi arrivati quest'anno e vorrei spiegare un attimo a loro il bello di giocare a Pescara, il bello di indossare questa maglia. Però a volte faccio anche fatica perché dopo che tu fai una vittoria a Cosenza per 2-1 in un campo difficilissimo, non proponendo nessun tipo di calcio spettacolo che in Serie B ancora faccio fatica a vederlo dopo tantissimi anni, veniamo in casa con l'Entella, dopo un quarto d'ora per un passaggio sbagliato sentiamo tutti i distinti fischiare e io faccio fatica magari a trasmettere a tanti ragazzi nuovi che Pescara non è questa. Ringraziamo invece quelli che sono in curva, quei 4-500 che sanno riconoscere quando la squadra può incontrare delle difficoltà e sanno riconoscere che c'è un gruppo di persone che vuole il bene del Pescara. Però quello che noto io è che a volte alcuni sono contenti quando il Pescara perde per criticare, secondo me questi sono tifosi non del Pescara e farebbero meglio a tifare altre squadre.